Un gruppo di amici, un gruppo di colleghi, sanno che la collega è riuscita a acquistare una casa tramite un'asta giudiziaria, si fanno affari, c'è solo un problema che bisogna perfezionare la parte, c'è una cosa che non quadra, e she's going to be cagite da dosso, c'è un terrore che possa sparire da un momento all'altro quest'affare, andiamo a sentire, vai! Sentiamolo subito, dai! Ciao a tutti i pazzi, sono Giugreppe, vorrei fare un scherzo alla mia collega Giovanna che ha comprato una casa da poco all'asta, vai Ciccio, pensaci tu!